Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi farò vedere le mie casse, i miei amplificatori e altoparlanti, come mi aveva chiesto nei commenti DJ Matteo. Scusate per la voce che ho preso un po' di raffreddore, un po' di allergia, siamo abbastanza nel periodo. Comunque, partiamo da questo. Questo qua è un Kenwood, la Sonic L30. Perché, malgrado le condizioni, è molto bello. Come vedete qua, gli mancano i cosi delle casse. Ci sono, ma sono rotti. Questo non è mio, l'ho recuperato. L'equalizzatore è un po' messo a cazzo, dovrò aggiustarlo dopo. Comunque, oddio. Praticamente, visto che il pulsante power è molto rovinato, anzi non torna neanche fuori ogni tanto, io premo il pulsante play della cassetta e si accende. O un pulsante qualsiasi penso. Ok, vabbè. Lasciamo stare le condizioni. Accendiamolo, vi faccio sentire un po' la radio come si sente perché non ho voglia di accendere il computer. Ovviamente non posso fermarmi su una stazione perché sennò mi bloccano il video. Quelli sono le sue casse, dovrebbero essere da 30 watt. Anche quelle lì sono in condizioni leggermente migliori. Quella lì è originale e dovrebbe funzionare completamente. Quella lì ho dovuto mettergli un cavo nuovo. L'unica cosa che non mi piace di questo, oltre alle condizioni, sono gli input qua. Che le casse si collegano con i jack rca. Fa niente. Poi c'è questo, che è un Sony, peccato che non ha l'automobile, comunque. È un Sony DAV-S500. Dovrebbe anche avere la radio. Per ora la sono lì. È un amplificatore surround, che ha ovviamente il suo subwoofer e le sue... Ormai quattro casse, che sono appunto, la vedete, sparse per i train. Le sue quattro casse che... Più o meno... C'è, più o meno che funzionano. L'unica... Dovrebbero essere le CN5, ma il centro non funziona nel coso e non ho proprio fisicamente la casse. Vediamo se... Forse aveva il tuner questo. Sì. Però lasciamo stare, che poi mi bloccano il video. Comunque. Successivamente c'è questo. Compattone, giradischi, radio. Amplificatore e cassette, purtroppo con le cingue liquefatte. E l'aggiunta di CD, che non sono due pezzi uguali, cioè non sono due pezzi collegati. Comunque, possiamo accenderlo. È un Sony LBT-V102. Questo è 100 Watt, comunque. E... Tuner. C'è musica. Va bene. Vabbè, si sente male perché non ho un'antenna e non posso neanche lasciarlo collegato al coso. Non posso, appunto, che mi bloccano il video. Le sue casse sono quelle. Forse ci sono anche nel mio vecchio video. Dovrebbero essere le A112. Sono molto carine. Molto funzionali. Dice l'altra. E sono da 60 Watt. C'è questo qua, che è un Sony. Amplificatore Sony che ho comprato all'asta su Ebay per 40 euro. 30-40 euro. Che dovrebbe erogare 300 Watt. Però, al momento, ho solo una cassa per farlo funzionare. Ovviamente ho un amplificatore, anche se lo metto su... Solo amplificatore, anche se lo metto su tuner. Non c'è. Non c'è un segnale. Allora. Anche speaker A e B, però, non credo funzionino insieme. Al momento, come vedete, c'è solo una cassa. Poi ne ho un'altra, però non ho ancora da portare su. Non è fisicamente qua. E la cassa è collegata a questa. La costruì io, insieme a mio nonno, nel 2017. Torno a quel periodo lì. E ha un woofer non più da 100 Watt da 6 pollici, ma è uno da 100 Watt e da 8 pollici. Dovrebbe essere 100 Watt, se non mi ricordo male. Un mid che è sempre uguale da 40 Watt, che non è un mid. È tipo un subwoofer da 4 pollici. Strano. E un tweeter, che non è più un wooferino da 3 pollici con il condensatore, ma è uno di quelle cose degli speaker professionali, anche se non è tanto professionale, che hanno tipo a cono. Sono i tweeter fatti a cono. Questo qua è della Pile, quindi non è la miglior cosa del mondo. Ed è da 75 Watt. Un suo condensatore, ovviamente, se no si fonda. Questo è qua solo perché è qua, è carino. Poi, da questo da aggiungere avrei un'altra cassa molto modificata della Philips, che non è più da 30 Watt, ma è da 100 Watt e funziona più o meno come un subwoofer. Più o meno. Questo invece è un amplificatore Skytech che sta tirando le cuoie. Questo lato qua, questo qua no, funziona ancora bene, ma credo siano solo i led anche se appunto emettono qualche disturbo. Comunque, le casse che ci sono collegate, posso farvi sentire il tuner, forse questo ce l'ha. No, proprio è morto. Comunque, questa è una lunga storia che non vi sto a spiegare. Quindi una cassa è lì, che è da 20 Watt ed è brutta, molto brutta. Una cassa è là, che ho costruito io ed è da, non mi ricordo più quanti Watt, penso 20 Watt, che ha un woofer della RCA e un tweeter, che non è più un tweeter perché è bruciato, ma strabruciato. perché, ora vi spiego anche che woofer è, quello lì è, non so, quello lì è l'altoparlante che, no magari questo è troppo vecchio, prendiamo questo e si trova in questa parte qua del telefono di casa. E ovviamente sarà stra-morto, stra-bruciato, distrutto e fuso. Sempre collegato a quello c'è questa, che la costruì per caso, solo perché mi andava, che è fatta da una scatola di cartone, due woofer ai lati, uno frontale, uno superiore e due tweeter dei giochini dei cinesi. fatta con woofer di televisori e con altoparlanti di televisori un po' scrausa. Gli altoparlanti suonerebbero bene se fossero in una cassa di legno, però quella è di carta e si sta distruggendo. Qui ci sono anche queste cosette qua, questa vi spiego dopo, ed è molto brutta, questa qua è molto brutta, appunto, tutte e due Samsung, questa qua nera si associava a questo amplificatore qua, che per me è praticamente più che inutile, perché le cassette funzionano, ma dovrebbero funzionare, oltre che ha uno scrauso, è degli anni, fine anni 90, ed ha uno scrauso tuner analogico, gratta tutto, è molto di bassa qualità, ma proprio di bassa qualità, con un amplificatore solo da quattro, no, da tre, tre bande, con le casse abbastanza finte, questa qua è solo finta, sembra più grosso, ma in realtà è solo quello. non mi piace anche perché non si può usare, perché non ha gli input per l'AUX, comunque resta lì, lì c'è un'altra, quella lì di legno fatta sempre io, con due woofer della Majestic, però al momento queste non sono collegate. poi c'è quella radiolina della Miver che potrei collegare volentieri, forse pure attaccata alla corrente, se non mi sbaglio, no, non lo è, degli anni 60 penso, anni 70 magari, molto sporca però, vabbè, in buone condizioni, ho anche le sue pile originali che ovviamente non sono qui dentro la radio e potrei anche collegarla, perché appunto là c'è il computer con due prolunghe e attacco il coso, perché ci avevano pensato anche a quell'epoca e ha un jack da 3,5 mm per collegare un coso, come si dice, una fonte esterna. le sue pile sono queste, in esposizione, molto vintage, ovviamente non tengono più la carica e saranno scariche da troppo tempo, poi c'è quella radiolina della Telefunken lì, lasciamo stare le condizioni, non fate domande, che non potrei collegare perché è dall'altra parte della stanza, quindi, ve la potrei anche far sentire perché questa è collegata la corrente, vediamo un po', sono anche abbastanza bene, sì, non è per niente male, poi lì c'è una fonovaligia, là c'è un'altra fonovaligia smontata e basta, sono tutte qua, ne mancano un paio, al momento però, al momento è ovviamente un progetto, non è mai finito, in quel momento è così, e allora ci vedremo in un prossimo video.